Il 90% degli agricoltori e degli allevatori del Molise sta producendo in perdita. Poggia su questa pesantissima premessa la mobilitazione di domani davanti al Consiglio regionale. A bordo dei loro trattori saranno in 50, tanti ne ha autorizzato la prefettura di Campobasso, ma avrebbero potuto essere molti di più. Comunque tanti trattori a sfilare nel cuore della città capoluogo non se ne vedevano da decenni. Ci ha detto stamane Antonio Ditri, portavoce della AT, l'Associazione degli Agricoltori e degli Allevatori del Territorio. A proposito dell'ambito di azione, tale Sodalizio, che ha esordito con la recente manifestazione di Venafro, nel giro di un mese ha guadagnato adesioni, valicando i confini della provincia. Ora conta circa 450 sottoscrittori ufficiali, non singole persone, bensì imprenditori a capo delle loro aziende agricole, con altri che hanno già manifestato la volontà di aderire. Per farlo non c'è bisogno di pagare una tessera, spiega Ditri, che ribadisce il carattere trasversale, svincolato da partiti e sindacati, ma dialogante con tutti del neocostituito Sodalizio. La manifestazione nasce per manifestare contro, anzi non per manifestare contro qualcuno, non si manifesta contro nessuno. Vogliamo solo far sentire la voce degli agricoltori e degli allevatori di un intero settore, che possiamo anche allargare i tartufai e altri operatori agricoli, che purtroppo in questo momento sono in grandissima sofferenza. Si produce in perdita. L'avanzamento dei cinghiali ormai è diventato un filo conduttore che raggruppa tutta la regione, se non anche le altre regioni limitrofe. Vogliamo solo portare il nostro grido all'attenzione di chi deve prendere determinate decisioni e per questo gli chiediamo a tutti, indistintamente, senza distinzione di colori, di appartenenze, di starci vicino e di aiutarci. Ovviamente l'unica cosa che chiediamo è un po' di concretezza e di coerenza. Chi la pensa come noi ci deve dare una mano, chi magari in passato la pensava diversamente da noi deve dimostrarci che su alcuni punti possiamo trovare un punto d'incontro. Non diciamo di avere ragione, diciamo di avere le nostre ragioni, che messe sul tavolo debbano essere oggetto di discussione. Quindi invitiamo tutti, i sindacati di categoria, chiunque voglia starci vicino, domani a Campobasso alle 10 davanti al parcheggio in via Giovannella. E le richieste concrete a cui fa riferimento Ditri riguardano l'opportunità non sempre colta di riuscire a intercettare fondi europei per gli imprenditori del settore, allo scopo di contrastare la proliferazione dei cinghiali, la revisione della legge di riferimento con la possibilità di abbatterli in modo mirato, destinando le carni dopo il controllo sanitario a famiglie in difficoltà. E non da ultimo una riperimetrazione dell'istituendo Parco del Matese, in modo da tener conto delle necessità di agricoltori e allevatori del territorio, istanze che saranno ribadite domani a Campobasso.